Sarei dovuto essere partito dieci minuti fa, direzione Bengar Park Scharnitz, Austria, let's go! Ho sentito che fate rasti trombone meglio di me? Tavola di Livi Ecco la squadra degli osservati, squadra giovanile Siete pronti? Claro Tu la fai la gara? Che gara? Cagare Chi è che mi aiuta a spiegare? Perché siamo qua oggi? Oggi siamo qua perché dobbiamo fare una gara Allora dove siamo prima cosa? Al Bengar Park E dobbiamo fare una session sul grosso per definire chi Allora noi siamo qua per fare la trial, per decidere chi andrà a Yeioff Olimpia di giovanili europei Qual è l'età che si può avere per fare il Yeioff? 2006-2007 E niente praticamente devono fare questa gara per decidere chi potrà partecipare agli Yeioff Spiega come funziona la gara Allora siamo alla session all'una e mezza Ci faranno sei run a testa e basta Chi è che vince? Chi fa i ticomiglioni Ok E chi li chiude Agitazione nell'aria Dimmi il trick che farà Felix Io faccio il frontside double 10 dopo il backside double 10 commute dopo il frontside 10 piatto indie il resto devo ancora pensare Bisogna saperli prima per la gara Vedremo vedremo se la tua strategia funzionerà Ali dobbiamo fare il confessionale devi raccontarmi i trick che farai dopo la gara Ho intenzione di fare front double e back double front 9 e back 9 Poi ho intenzione di portare un back 10 piatto Allora intanto tu ti stai allenando mentre gli altri sono lì a chiacchierare Allora queste idee ci sono? L'agitazione Si fa sentire È per la telecamera o per la gara? Per la gara Ah ok Gallinic Frontside double 10 tail Poi backside 10 piatto Melon Un seven tail frontside Forse un cap double 9 E se riesco qualcosa altro in switch backside Il trick più figo che fai è il front double in tail Quindi su quello lì riponiamo tutte le nostre speranze Quello c'è sicuramente Hai sentito che fate rasti i tromboni meglio di me? Io no Tu Non ho detto che lo faccio bene Non ho detto che lo faccio meglio di te E quindi me lo fai vedere Ho una foto se vuoi Una foto? L'ho fatto in una gara Fallo qua Fallo qua Visto Qua adesso Va bene vado a farlo adesso Mangi al salomino e vado Su di corso Su di corso Aspetta È così giusto? Eh dai Non fai meglio di lui non sai com'è Ma è per ricordarmelo Eccolo che corre Allora cosa deve fare il nostro amico? Il grab Che non è un grab È il grab Il grab Il sacro graal dei grab La porcata più porcata mai inventata Ah ora sti trombone Attenzione La pressure nell'aria Alle donne Era dedicato a te Mary Eh sì Cosa dite? Questo se la gioca davvero comunque Come miglior raggio di trombone Bellissimo Hai onorato il nome del grab Bravo Complimenti Grazie Dov'è la tavola? Dov'è la tavola? Le avevo fatti per metterli sulla tavola di Livi Lo vuoi anche tu? No Allora questo è il premio di consolazione per chi perde la gara Di oggi Di raccontare il tuo back triplo Come racconta il back triplo a sua nonna? Sì Parto poi vado dritto per tutta la discesa Poi comincio a fare una piccola curva sui talloni Vado sulla sinistra del salto Poi metto le punte Do un precarico Apro le spalle Dalla parte opposta dove devo girare Anche il bacino Quando sto per uscire dal salto Comincio a dare la spinta Dandola al piede della tavola In aria Quando sono in aria Poi raccolgo le gambe Dopo un po' prendo il grab Vado a guardare sotto il braccio destro due volte E vedo il landing Mi apro e lo chiudo E la nonna in tutto questo cosa ha capito? Niente Se va bene non si è addormentata Però in testa se l'hai Tommy ci ha spiegato il back triplo Però è troppo piccolo per fare la gara di oggi Più di dieci anni Meno di me Vabbè Nome Rocco Moresi Età 15 anni Le prime due run Back 7 front 7 Farò double 9 Farò un back 10 piatto Sempre mute E come ultima run Farò un front double 10 Quindi tu hai una strategia un po' più easy Con fronte agli altri Che partono subito prossimi Vediamo se sarà la vincente Cosa ne pensa Tommy? Basta che faccia bene i 7 Dai Emma No sono ancora un po' indecisa Confessionale Come parte la tua gara Faccio back double Mute Se mi sento bene Faccio diretto front 10 Se no faccio prima front 7 E poi front 10 Cab 9 Poi sono indeciso se fare back 9 O back 12 Perché back 9 ce l'ha più safe Però back 12 è più peso Dai ragazzo Ecco i 5 concorrenti Per il trial Tutti amici poi Amici e amici ma poi ti rubano il posto per il video Si accettano scommesse Eccoci nel confessionale delle scommesse Due non passano su 5 Chi è che non passa? Secondo te Chi è che non passa? E' una sfida molto difficile Perché più o meno i trick sono tutti quelli Io direi Rocco Rocco non passa Rocco non passa E Ade di Matteo Potrei dirlo anche per motivarli Sarebbe una motivazione in più per me Quanto manca? Pochi minuti alla partenza? 10 minuti All'inizio del training Guarda la tranquillità di chi non deve far la gara Perché è troppo piccolo E che quanto è pieno? 20 persone Facciamo un riepilogo Avranno 6 run Dove faranno i loro 6 best trick Non devono per forza essere tutti chiusi Però è un overall impression Quindi si vedrà chi ha girato meglio E i due che avranno girato peggio Saranno eliminati I ragazzi sono gasati Si parte Ecco lì Non vogliamo sconcentrarli Ma è bello Metà gara è andata Come siamo messi? Si è messo meglio Si è messo un po' meno meglio Però siamo a metà Tutto ancora può cambiare no? Cosa dici? Cosa ne pensi a sacco? No Può cambiare tutto Anche perché non è chiuso un caldo Il mio voto potrà confermare O ribaltare La situazione Gara finita Soddisfatto? Ho rimborsato? Devo dire di si Vedremo i risultati E chi? Parteciperà lì No io li impazzisco Questo l'ha chiuso Fai delle facce bellezza Allora è finita così Primo posto Emanuele Di Matteo Con un bel back double Il from mille indie E un cap 9 Secondo posto Pari merito Pari merito direi per ora Tra Rocco e Nicola Galli Con rispettivamente un back set Un cap 9 E un front da volandosi E l'altro Nicola Galli Abbiamo fatto un front mille piatto Un front mille double E un cap double under flip Facendo switch from board a metà Secondo me per la varietà Io personalmente E poi eravamo in 5 Quarto Felix E quinto ovviamente Ovviamente C'era Emma che non vedeva l'ora No no mi dispiace Dai un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio Un abbraccio la fratelli Dai fate pazze per favore Oh la pazza è fatta Basta che Basta che Mizzuria è bellissima L'avevi studiato? E io ho frenato perché non volevo fare questa roba qua Bomba Basta che